buongiorno ragazzi giovedì 13 maggio 2021 ragazze e ragazzi giovedì 13 maggio 2021 e qua al nord proprio sole ancora non si vede l'inverno è lunghissimo quest'anno praticamente neve come se non ci fosse un domani in trentino pioggia piogge che durano mesi temporali liguria clima veramente molto difficile speriamo finisca questo lunghissimo inverno 2021 continua invece il campionato anche il campionato ha il suo percorso con l'inter che non mostra assolutamente di avere la pancia piena dopo il come si vuol dire dopo la conquista del suo diciannovesimo titolo l'inter continua a mietere successi anche larghi di misura dopo avere battuto per 5 a 1 la sampdoria ieri ha regolato anche la roma del dell'annunciato messia osè murigno che però prenderà il timone della squadra a inizio della prossima stagione per il momento si continua con paolo fonseca che purtroppo ha un po perso le retini del di questo gruppo che appare appare un po sbandato che andrà ad affrontare nella trentasettesima giornata un derby nelle condizioni psicologiche ma anche fisiche credo peggiori perché appare una squadra svuotata una squadra che non ha più un vero obiettivo da perseguire quindi sembra che i giocatori stiano facendo tutti i loro ragionamenti dove cosa conviene fare dove conviene a casarsi la roma ieri sul 2 a 0 ha accorciato le distanze con mkhitaryan tutto sommato avrebbe anche potuto trovare la rete del pareggio in almeno due occasioni con una bella girata di sinistro di gecko che ha controllato in area di destra si è portato la palla con il sul finistro ha calciato in mezza girata ma ha preso l'incrocio dei pali e poi su un cross da destra cristante si è trovato praticamente solo davanti alla porta ha colpito di testa ma ha mandato la palla fuori alla sinistra diffuzzato il giovane portiere terzo portiere della roma che ha giocato a milano sicuramente c'è di meglio in giro cioè la roma ha chiaramente un grave problema in porta ma vediamo un po tutti quanti i risultati della 36esima giornata cagliari fiorentina 0 a 0 ad avanti a benevento 2 a 0 sandoria spezia 2 a 2 torino milan 0 7 inter roma 3 a 1 bologna genoa 0 2 lazio parma 1 a 0 sassuolo juventus 1 3 crotone verona si gioca questa sera è stata una giornata molto particolare con questo clamoroso successo esterno del milan che ha umiliato il torino fra le mura amiche c'era il presidente cairo che veramente a fine partita una faccia da funerale una cosa incredibile ma anche i giocatori del torino sono a passi molto provati da questa sconfitta perché si può perdere con il milan primo tempo 0 2 un gol sul calcio di rigore milan che tra l'altro ha colpito anche due pali ma poi c'è stato un tracollo più psicologico che tecnico con i giocatori del milan che arrivavano da tutte le parti non trovavano mai più opposizione e quindi è una sconfitta che a due giornate dalla fine per una squadra che è ancora pienamente coinvolta nel problema della nella zona di retrocessione potrebbe avere qualche ripercussione psicologica poi andremo a vedere con chi gioco al torino nelle prossime due partite io sinceramente faccio fatica a ricordare questo tipo di risultato ricordo un roma catania con spalletti e fini 7 a 0 con alcuni giocatori del catania che si riputavano addirittura di dare la mano a spalletti alla fine della partita perché ritenevano di essere stati umiliati ingiustamente perché c'è una specie di norma non scritta che prevede che una squadra sta vincendo 5 a 0 insomma ti fermi no 6 a 1 5 a 1 si ferma a un certo punto invece la roba continuò perché spalletti dice a fine partita che è giusto giocare per 90 minuti eccetera eccetera per me ha ricordato un po questa partita ma 0 7 ho risultato in trasferta sinceramente io se li hanno ricordo bisogna arrivare proprio agli anni molto indietro con il tempo poi come avete visto prezioso punto dello spezia in ottica di trecessione sul non facile campo di marassi cagliere fiorentina ci sono divisi la posta perché un punto tutto sommato consentiva loro di muovere la classifica in modo importante il genoa andata a prendere tre punti che vogliono dire serie a a bologna sul campo di una squadra che aveva molte meno motivazioni a un risultato che effettivamente era prevedibile pilotecnica è stata in un certo senso sassuolo juventus è visto di tutto con buffon che ha parato rigore a berardi anche molto molto difficile da parare perché il tiro era molto forte in occasione che avrebbe potuto portare in vantaggio il sassuolo che sta inseguendo il settimo posto che vale quest'anno la conference league poi la juventus si è ritrovata con un grande ronaldo che ha segnato un bel gol ha colpito un palo nel finale dopo una bellissima azione molto bello godi ronaldo che lanciato sulla destra con il destro rientra facendo tunnel al difensore emiliano poi cambia piede con il sinistro sul primo palo beffa il portiere del sassuolo ma molto bello anche il palo parte da sinistra ronaldo doppio passo si accenta palla sul destro sul secondo palo palo clamoroso un risultato fondamentale per la juventus che credo se non avesse vinto ieri veramente si sarebbe giocata la semplice ma la situazione di classifica come vedremo rimane molto complicata perché la juventus non è più padrona del suo destino deve per forza di cose augurarsi che qualche diretta concorrente che qualche diretta concorrente faccia un passo falso eccomi mi accorgo che nei risultati manca la partita del napoli che ha battuto l'utinese 5 a 1 il napoli proprio a un punto di vantaggio su sulla juventus e quindi praticamente se vincerà le prossime due gare una non facile a firenze la fiorentina però ormai è salva anche lei è a 39 ha aggiunto una quota che il benevento non può più raggiungere quindi e quindi si mette molto male per la juventus perché il napoli vincendo queste due partite non è raggiungibile quindi veramente sarà molto complicato vediamo un po la classifica allora inter 88 atalanta e milan 75 napoli 73 juventus 72 al quinto posto in questo momento sarebbe qualificata per l'europa league fase a gironi lazio 67 con una partita in meno da recuperare col torino sarebbe alla fase preliminare dell'europa della prossima europa league roma 58 sarebbe in conference league ma al sassuolo a soli due punti sampdoria 46 verona 43 con una partita in meno che recupererà ci deve giocare ancora oggi ancora il turno 36 contro il crotone in calabia si gioca bologna udinese 40 queste squadre sono già salve come la fiorentina 39 che come ho detto non è più raggiungibile da parte del benevento che è la terza ultima che a 31 è raggiungibile invece il cagliari ancora che a 36 quindi cagliari 36 torino e spezia 35 benevento 31 fa queste 4 una retrocederà insieme a parma 20 e crotone 18 sicuramente indiziata principale il benevento che però nella prossima giornata incontrerà il crotone già retrocesso quindi potrebbe vincere a benevento andare a 34 e poi raggiungere nell'ultima partita c'è la partita col torino ovviamente uno spareggio ma bisogna vedere perché se il torino dovesse essere già salvo allora cambierebbe tutto se il torino dovesse vincere la prossima gara ne va 38 e quindi sarebbe già salvo matematicamente salvo quindi a questo punto potrebbe lasciare i tre punti al benevento che quindi con questi sei punti andrebbe al 37 e potrebbe ancora sperare di scavalcare lo spezia quindi spezia che però nell'ultima gara la roma in casa e la roma abbiamo visto che ormai è un po in vacanza quindi molto ancora tutto da giocare questo campionato allora vediamo un attimo subito i turni gli ultimi due turni di questo campionato che va a concludersi con la vittoria una grande inter è stato molto bravo conte a motivare questa squadra ed è bello vedere queste squadre che hanno raggiunto il proprio obiettivo ma continuano a giocare come se ci fosse ancora qualcosa da raggiungere c'è stata tra l'altro l'episodio di tensione tra conte e lautaro martinez perché martinez quando è stato sostituito da subentrato cioè era subentrato ma è stato poi sostituito per far giocare qualche minuto anche al giovane trentino pinamonti e lautaro ha preso a cacci una bottiglietta dato molti sintomi segnali di insofferenza conte lo ha apostrofato alla sua maniera gli ha detto devi stare tranquillo non ti metterà a fare il fenomeno poi è arrivato anche oriali ha cercato di calmare lautaro che però era visibilmente contrariato anche perché è uno dei giocatori che potrebbe essere sacrificato dall'inter che ha come sapete gravi problemi finanziari nonostante la vittoria dello scudetto e potrebbe essere costretto a rinunciare a uno dei suoi pezzi da 90 ma lautaro martinez è stato veramente uno dei giocatori più importanti quest'anno ha segnato tantissimi gol su azione perché lucaco ha segnato anche molti rigori pur essendo il giocatore più importante dell'inter ma lautaro ha risolto molte molte situazioni a conte comunque questa tensione questa ancora questo nervosismo è chiaro che denuncia che palesa che nella nell'ambiente c'è ancora una grande voglia di vincere una voglia di fare ci sono tutti molto concentrati e questo è molto bello come è stato molto bello anche vedere la partita del parma già retrocesso ieri allo stadio olimpico e avevamo tutti convinti che la lazio avrebbe vinto in goleata senza problemi contro una squadra piena di riserve con tanti giovani addirittura ha risordito un ragazzino di 16 anni negli ultimi minuti e invece il parma che è difeto nel primo tempo ma nel secondo tempo è uscito fuori ha colpito due pali tra l'altro in questa partita e nel finale proprio un gran palo con un tiro da fuori poteva dare addirittura tre punti sorprendenti a un parma che ormai non ha nulla da chiedere al campionato non non ha di quello di non arrivare all'ultimo posto a due punti di vantaggio sul crotone poi proprio al 95esimo non è certamente la prima volta che succede questo alla lazio che evidentemente una squadra molto fortunata cioè quella di quello di riuscire a bloccare le partite all'ultimo all'ultimo attacco all'ultimo respiro confuso attacco della lazio in zona centrale c'è tutta una serie di rimpalli almeno tre giocatori del parma che si vedono carambolare addosso il pallone che schizza sulla destra c'è ciro immobile che fredda sepe sulla sua sinistra con un interno destro molto semplice per un giocatore del genere ma è il minuto 95 era proprio l'ultima azione tre punti d'oro per la lazio che ha dato la sensazione di avere risentito molto psicologicamente della sconfitta di firenze dove sostanzialmente la lazio perdendo quella partita ha buttato via le sue possibilità di arrivare in champion league molto male la scelta di inzaghi di partire dal primo minuto con il kosovaro murici l'attaccante vedat murici che è andato veramente male probabilmente se fosse partito dall'inizio con caicedo con correa le cose sarebbero andate diversamente ma la lazio sicuramente va ad affrontare il derby in condizioni fisiche non ottimali quindi è una partita secondo me molto aperta andiamo a vedere quindi quali saranno le gare della trentasettesima genoa atalanta spezia torino spezia torino uno spareggio proprio è veramente uno spareggio perché in classifica hanno 35 punti quindi pareggiando vanno a 36 il benevento battendo il crotone va a 34 e quindi tutto sarebbe rimandato all'ultima giornata ma c'è vediamo un po quali saranno le partite dell'ultima giornata poi continuo con la trentasettesima juventus inter debito malazio fiorentina napoli udinese samp benevento crotone parma sassuolo milan cagliari verona bologna questo parma sassuolo è una partita che potrebbe rivelarsi importante ai fini della classifica perché la roma con la lazio farà molta fatica a vincere diciamo che potrebbe anche pareggiare ecco quindi sassuolo vincendo a parma raggiunge la roma al settimo posto e la può anche scavalcare se sassuolo tra l'altro può tranquillamente battere il parma perché è più forte abbiamo visto anche ieri che sassuolo è una squadra che gioca molto bene ha perso contro la juventus perché la juventus ha quei giocatori che hanno quel livello tecnico e di esperienza due gradini di più come appunto buffon cristiano donaldo e che al cospetto di una squadra molto giovane che gioca anche molto bene però c'ha dell'ingenuità e hanno fatto valere la loro esperienza quindi questa è la trentasettesima e poi nell'ultima di campionato è già finito anche questo campionato atalanta milan partita interessantissima bologna juventus interudinese cagliari genoa quindi il cagliari nell'ultima di campionato a genoa che già salvo quindi cagliari possiamo già dire che si salverà perché anche perdendo a milano col milan cosa possibile poi c'ha l'ultima partita di campionato che le consentirà comunque di arrivare a 39 punti molto buono lavoro fatto da leonardo semplici che ha rilevato il debbio di francesco prendendo in mano una squadra che navigava veramente in pessime acque tra l'altro è molto sfortunata perdeva sempre le partite degli episodi sfortunati con di francesco o poi sassuolo lazio torino benevento torino benevento sarà una partita io credo fondamentale per la permanenza in feria comunque vada a meno che il torino non vinca alla spezia e quindi già salvo a 38 punti sarebbe già salvo ecco la partita chiave spezia torino perché se pareggiano torino benevento diventa la corrida per il benevento e invece il torino dovesse vincere la spezia potrebbe anche lasciar vincere lasciar vincere giocare la partita senza la massima concentrazione il benevento prenderebbe tre punti che probabilmente gli consentirebbero dico probabilmente rimane in feria ma è una lotta ancora molto aperta sampdoria parma napoli verona crotone fiorentina e poi c'è questo spezia roma che anche questo quindi lo spezia diciamo che pareggiando torino e battendo la roma è salvo battendo torino è salvo e perdendo col torino e battendo la roma andava 38 e mi sa che per il benevento non c'è più niente da fare ragazzi perché il benevento può andare massimo a 37 lo spezia 35 se anche perde in cata col torino e batte la roma nell'ultima partita va a 38 con un punto in più si salva quindi credo che il benevento potrebbe avere grossi problemi a rimanere in serie a se no dovrebbe il torino perdere la spezia rimane a 35 e con il benevento a 34 punti ci sarebbe una sorta di spareggio prima mente di a fa torino e benevento torino a 35 benevento 34 col benevento a quel punto per rimanere in serie a dovrebbe assolutamente vincere a torino è ancora molto interessante la la lotta salvezza con tra l'altro quest'anno squadre che sono rimaste coinvolte nella discorso salvezza che non ci si aspettava come il torino lo stesso parma ma anche il cagliari sembrava una squadra più attrezzata e devo dire che anche la fiorentina solo nelle ultime gare si è tirata fuori da una brutta situazione di classifico è molto negativo anche il campionato della fiorentina quest'anno quindi questa è ancora la situazione per quanto riguarda ripeto la quello che è la cosa più interessante cioè la zona champions ormai sono tre le situazioni ancora da definire sono quali sono le tre squadre che andranno in champion league insieme all'inter quali sono qual è l'ordine delle squadre quali sono le squadre che andranno in europa league e quale squadra andrà in conference league tra roma e sassuolo e poi chi si salva la terza retrocesche retrocederà per quanto riguarda la zona champions juve naturalmente inter scusate a 88 adalanta milan 75 napoli 73 ma il napoli a fiorentina napoli abbiamo detto e napoli verona frentina napoli vince tutte e due e va a 79 la juve può arrivare massimo a 78 quindi tra l'altro juve inter non è che sia una partita facilissima che l'inter gioca in questo modo qui è bologna juve vincerà la juve quindi se non se non ti suicidano atalanta o milan si mette veramente male per la juventus e certo sarebbe veramente clamoroso che genoa atalanta l'atalanta non credo l'atalanta genoa atalanta atalanta milan ma non mi sembrano sinceramente due partite che possono con l'atalanta l'atalanta col genoa già salvo vince col milan anche perdendo sarebbe comunque a 78 il milan arriverà a 78 perché batte il cagliari all'ultima partita quindi il napoli sarà andrà a 79 io ho l'impressione che quindi succederà questo succederà è sì succederà che milan batte il cagliari l'atalanta vince a genova vanno tutte e due a 78 nell'ultima gara c'è l'atalanta milan con un pareggio entrambe sono sette della zona champion quindi napoli abbiamo detto che se ne sta a 79 arriverà secondo pensate un po no arriveranno tutte e tre a 79 pensate un po tutte e tre a 79 e la juve vincerà magari le ultime due partite con inter e a bologna ma arriverà a 78 quindi arriverà quinta qualificata alla faccia gironi per l'europa league incredibile la lazio quindi la lazio batterà il torino andrà a 70 poi c'è questo derby che non è certo una partita semplice per la lazio che ha vinto tra l'altro la gale debita andata per tre a zero quindi la roma vorrà per indicarsi perché la roma a questo punto non la capisco più e nell'ultima domenica c'è sassuolo lazio ecco sassuolo lazio una partita abbastanza impegnativa quindi la lazio andrà a 70 73 può arrivare massimo a 76 quindi rimane comunque rimane comunque al di sotto almeno che la juventus non perda con l'inter allora forse la lazio può arrivare quinta ma ormai sembra che la situazione sia ben delineata diciamo che senza sorprese clamorose squadre che si suicidano proprio questa dovrebbe essere la classifica finale inter poi le tre atalanta mina napoli la juve dovrebbe arrivare quinta e certo sarà veramente un fallimento per dirlo questo juve che tra l'altro continua la sua stagione perché deve affrontare ancora due partite difficilissime che sono juventus atalanta finale di coppa italia partita per me difficilissima e poi c'è la partita di ritorno della supercoppa italiana contro il napoli la juve ha vinto la gara di andata 2 a 0 che è un risultato statisticamente difficile da rimontare quindi io penso che la juve perderà la coppa italia al cospetto di un atalanta che gioca in questo momento largamente il miglior calcio d'italia e poi invece riuscirà a alzare la supercoppa italiana perché ripeto il 2 a 0 è molto difficile da recuperare avrà problemi con il napoli per il napoli in grande forma però riuscirà a segnare un gol magari di ronaldo e con quel quel gol costruiranno questa vittoria vi ricorderete che nella gara d'andata sull'1 a 0 lorenzo insigne bagliò un calcio di rigore che nei minuti finali avrebbe dato il pareggio al napoli un pareggio che sarebbe probabilmente risultato decisivo e poi all'ultima azione la juve in contropiede segnò il 2 a 0 quindi il 2 a 0 è un risultato che fu molto molto positivo per quella partita che non fu per nulla facile per la juventus quest'anno più volte ha denunciato dei limiti poi in alcune partite come quella di ieri emerge invece il livello tecnico dei giocatori che comunque ci sono ma non è sempre continua questa squadra ieri poi tra l'altro aveva in campo anche Dibala che è un giocatore che tecnicamente è veramente molto forte alza tanto il livello tecnico della squadra perché è un giocatore molto diverso rispetto per esempio a un Kuluseski che è un giocatore molto potente ma tecnicamente non ha certo l'eleganza il passo felpato i colpi e i tiri ad effetto molto eleganti di Dibala o Dibala che dir si voglia tornando quindi alle partite di ieri l'Atalanta a Benevento come dicevo prima l'Atalanta in questo momento che c'è un avversario che deve evitare l'Atalanta è una squadra che gioca meglio di tutte il Benevento ha fatto quello che ha potuto Stando gli aspetti a 2-2 abbiamo detto nella vittoria del Milan è una vittoria 0-7 che tecnicamente non è neanche facile spiegare su quelle giornate che proprio aveva tutto storto e a quegli altri aveva tutto bene anche due pali ripeto per il Milan poteva finire veramente ingoleata ma negli ultimi minuti il Milan ha anche alzato il piede dall'acceleratore perché a un certo punto si sono veramente fermati sullo 0-7 quindi brutta esperienza veramente per gli uomini di Davide Nicola il Lazio Parma abbiamo detto partita incredibile con la Lazio che avrebbe dovuto dominare questa partita invece ha incontrato una serie di problemi al cospetto di questa formazione più che sperimentale messa in campo da D'Aversa è bellissimo però è una squadra già retrocessa che non ha nulla da chiedere che si impegna invece fino alla fine ha perso un colpo di sfortuna solo per quello il Parma all'Olimpico però in queste partite si è visto che la Lazio rispetto alle prime 4 le prime 5 effettivamente aveva qualche cosa in meno e si è visto proprio contro la Fiorentina e contro il Parma con questo ho concluso continuiamo a seguire il campionato insieme alla prossima insieme a tutti